Ciao, Harry. Noi due dobbiamo parlare di più. D'accordo, ti ascolto. No, con la radio durante la corsa. Perché se vuoi andare con la macchina tutto il tempo sul filo del rasoio, devi dirci come si sta comportando, tannazione! Tu vuoi solamente cambiare il mio modo di guidare? Può versi. Perché invece non sistemi la macchina in modo che io non debba cambiarlo? Oh, non chiedo altro. Dimmi che devo fare. Cosa vuoi sapere? Che diavolo col sei tu il pilota? Se credi che abbia bisogno di una messa a punto, diccelo. Serriamo qui, moriamo là e vinciamo la gara. È semplicissimo. Non posso farlo. E per quale ragione? Perché non so di che diavolo stai parlando. Che cosa vuoi dire? Il fatto è che io non ne so un bel niente di macchine, ok? Questo non ti rende affatto diverso dagli altri piloti che ho conosciuto. No, davvero, non ne so niente. Non so cosa volessi dire prima con... Serriamo e molliamo, capito? Per me è buio completo. Ma com'è possibile? Che importanza ha? Mi hanno detto di salire in macchina e di guidare. E io so farlo. Vorrei rendermi utile, ma... Ma non posso. Sarò un idiota, ma non conosco il vostro gergo. Allora... Cosa? Non mi resta altro da fare... che insegnartelo. Non ti pare? Solo... Non preoccuparti. D'accordo? Non me la senti. Il culo se ne va da tutte le parti. E un ammortizzatore starato. Torna ai box. Li smontiamo e gli diamo una controllata. E infine, Cole, la cosa più importante. Sono le gomme che vincono le corse. Ehi, ma di che diavolo parli? Se non troviamo il modo di farti correre senza farle bruciare, non finiremo mai una gara. Che cosa vuoi? Sta a sentire. Ora fa 50 giri come ti pare. Poi fa 50 giri come ti dico io. Dammi una corsa onesta e vedremo chi ha ragione. Vai con l'aria! Ok, adesso faremo 50 giri a modo mio. D'accordo? Allora, quando tu correvi a Indianapolis, le auto pesavano la metà e le gomme erano larghe il doppio. Ora la tua auto pesa quasi il doppio e le gomme sono larghe la metà. Quindi le bruci, giusto? E quando le bruci, sai che succede, si squagliano, cioè diventano viscide e tu perdi aderenza. In fretta! E l'aderenza è tutto. Ok? Vai! Forza! Hai controllato la pompa, vero? Sì, è a posto. È stretta bene quella? Sì, a modo suo, a modo mio. È sei secondi in meno. Ora mi inviti a pranzo, Tim.